La Guardia di Finanza ha sequestrato 400.000 euro ad Immacolato Bonina, 57enne noto imprenditore nel settore della distribuzione alimentare a Barcellona, Pozzo di Gotto. Analisi contabili e bancari hanno fatto emergere che la società oggetto dell'indagine, nonostante la floridità del volume d'affari, improvvisamente ed inspiegabilmente ha avuto difficoltà finanziarie, con riflessi sulle somme dovute ai creditori e dall'erario. La società, gravata da una perdita di esercizio per oltre 40 milioni di euro, è stata lasciata morire cedendo il posto ad una new company, riconducibile allo stesso gruppo imprenditoriale ed operante nello stesso settore. Nei bilanci presentati dal 2014 sono stati trovati incongruenze, falsità e valori artefatti nati, secondo gli investigatori, da un sofisticato meccanismo di volontario impoverimento della società. Il titolare dell'azienda è indagato per bancarotta fraudolenta patrimoniale, omesso versamento dell'IVA e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.